Una rivalità che nasce da lontano, da quella famosa stagione 82-83. Da allora Catanzaro-Cosenza e viceversa, non fu più una partita qualsiasi, un derby qualsiasi, ma il derby, la partita. Le Aquile erano in Serie A e quando si trattava di scegliere un campo neutro, spesso si optava proprio per il San Vito. Le due compagini, specie da quando le Aquile giocavano stabilmente tra Serie A e B, non si incrociavano da molto tempo. Le due piazze avevano un rapporto di indifferenza. Il 20 marzo 83 in programma c'era Catanzaro-Cagliari, il match fu disputato proprio a Cosenza. Per le Aquile quella fu l'ultima stagione nella massima Serie. A quella gara i giallorossi si presentarono ultimi e parecchio staccati dalla zona salvezza. Al termine del campionato mancavano sei giornate e con una vittoria l'US poteva ancora sperare nell'aritmetica. Le gare precedenti disputate sul neutro Silano erano state accolte con una certa enfasi dalla piazza Rosso-Blu. Non quella volta. In quell'occasione fu diverso e i tifosi dei Lupi si schierarono dalla parte del Cagliari. La gara terminò 1-2 e le Aquile dissero definitivamente addio alla massima Serie. Per i supporter giallorossi fu un vero e proprio tradimento. Da quel momento in poi nacque lo storico antagonismo fra le due tifoserie. Da quel giorno Catanzaro-Cosenza non è più una partita, ma la partita. Non un derby, ma il derby. La gara terminò la partita, ma la partita.